Buongiorno a tutti ragazzi, venerdì 2 aprile, tra poco sarò in collegamento con Roberto Orecchia da Green P, questo splendido luogo dedicato al mondo green, appunto, a tutto quello che è sostenibile. Lui già titolare dello storico negozio Vestil, situato in Piazza Statuto a Torino, lavora e collabora come promotore di questo prestigioso progetto come fashion director, quindi come responsabile del comparto dedicato al mondo della moda all'interno di questo megastore, ma vedremo è qualcosa di molto di più, è veramente uno spazio unico nel suo genere, quindi sono veramente felice di poter avere questa diretta oggi ed ascoltare, oltre che vedere insieme a Roberto, tutto quello che questo spazio offre e ci auguriamo ovviamente tutti, io per primo, di poterlo visitare presto. Qualche secondo come sempre per dar modo a un po' di amici di collegarsi e procediamo subito anche ad avvento. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti, ciao Federico. Buongiorno e grazie. Ti ringrazio molto di questa accoglienza, soprattutto di darmi modo a me primo e poi a tutte le persone che avranno modo di partecipare con noi a questo tour guidato, ci farai da Cicerone all'interno di questo spazio unico nel suo genere, il primo concept che avete ideato su questo genere e che mi auguro possa prendere poi vita anche in altre città. come dicevo tu, oltre a essere titolare dello storico negozio Vestil di Torino, hai da sempre, quindi da tempi non sospetti, quindi sicuramente anche da prima che ci conoscessimo, però sicuramente io posso dire da quando ci conosciamo ho sempre avuto questa grande attenzione verso quello che era il mondo green e il mondo sostenibile, tant'è che non ricordo se già l'avevo fatto presente, c'è questo piccolo aneddoto, tante volte alcuni commerciali di aziende di abbigliamento che non avevano ancora rapporti con te dal punto di vista commerciale, ovviamente ti conoscevano come persona, come professionista, ogni tanto di tanto in tanto mi chiamavano e mi dicevano ma senti tu che conosci Roberto, ma come faccio? perché io vado, buongiorno, è molto educato, però mi dice ho tutto, non mi interessa, ti ringrazio, che cosa si può fare? Mi ricordo che a uno di loro consigliai, dico guarda, ti posso dire, parla con Roberto di un qualche progetto legato alla sostenibilità, alla green economy, perché è un tema caldo, in quei momenti là ancora non era così caldo, non era diventato così centrale, e storia vuole, che appunto voi ne avete parlato e so che è nata anche qualcosa da questo punto di vista. Comunque, oggi siamo con te che sei, oltre titolare di Vestil, come dicevamo, fashion director, quindi responsabile di quella che è la parte moda, abbigliamento, all'interno di Green P. Ma lascio a te la parola e partirei proprio da cosa significa Green P. Allora, grazie intanto per darmi la possibilità sul tuo bellissimo canale che ovviamente seguiamo da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, da prima che iniziassi a fare Shopping Map, mi fa molto piacere essere in questa diretta, e niente, spiegare cos'è Green P. è una cosa molto semplice. È un luogo di rispetto dove vendiamo e facciamo e insegniamo quello che è la nuova, secondo noi filosofia, dire di vita è tanto, però è un nuovo modo di intraprendere sia l'imprenditoria che un po' i consumi e la vita quotidiana. Uno dei nostri slogan è quello che è una domanda, dobbiamo smettere di consumare o consumare meglio? Quindi, e ovviamente l'imprenditore non bisogna smettere di consumare, se no sarei sbagliato, darei un'impronta sbagliata. Bisogna consumare meglio, quindi bisogna iniziare a capire come consumare con rispetto, senza avere la necessità, diciamo obbligata, o comunque una necessità forzata di cambiare le nostre abitudini, ma di iniziare a cambiarle lentamente e avere un po' più di rispetto verso quello che è il pianeta che ci ospita. Il nostro scopo è svegliare un po' le coscienze della gente e cercare di far capire che il nostro pianeta è un pianeta che va avanti benissimo senza la razza umana. Facciamo tutto questo non tanto per salvaguardare il pianeta che per carità è giusto, ma per cercare di salvaguardare soprattutto la vita dell'uomo sulla Terra e cercare di vivere in una maniera più giusta per tutto e per tutti. Quindi la rincorsa frenetica, il cambio di stagione della rincorsa frenetica all'ultima cosa va bene una volta ogni tanto, ma non deve essere la regola. Green Pea è il luogo che vuole far passare. Noi adesso ci comportiamo bene perché dobbiamo comportarci bene. Quello che vorremmo noi è passare dal senso del dovere al senso del piacere. Deve essere un piacere comportarsi bene. Quindi From Duty to Beauty è un altro dei nostri payoff che è molto semplice da spiegare perché è proprio quello che vogliamo fare. cioè il comportarsi bene e rispettare gli altri, le persone, la natura e il mondo che ci circonda. Insomma, un po' di rispetto su tutti. Sul nostro ingresso c'è scritto una parola sola, è scritto rispetto, punto. Questo è quello che noi vorremmo insegnare, no, ma vorremmo far capire alla gente di percorrere per vivere una vita più bella, più serena, soprattutto per le prossime generazioni. Noi ormai siamo una generazione che ha fatto quello che ha fatto dei danni. Dobbiamo cercare di mettere a posto questi danni e cercare di dare alle generazioni seguenti un mondo migliore. Greenpeace nasce per questo. Nasce dieci anni fa dall'idea di Oscar Farinetti. Me ne ha parlato appunto dieci anni fa. Era un'idea embrionale. Ci stiamo lavorando ai dieci anni e cinque anni fa siamo arrivati appunto alla svolta, a quello da dover iniziare a costruire, a fare e a mettere giù i progetti definitivi. Con la mia famiglia, io, mia moglie e mio figlio siamo soci di Greenpeace e per questo ovviamente metà della nostra vita imperditoriale è dentro Greenpeace adesso. Quindi Vestil va avanti. Vestil è stato il punto di partenza e di test di varie aziende, di vari prodotti per vedere se potevano essere sostenibili o meno, se funzionava, se l'idea di sostenibilità era un'idea che poteva stare in piedi o meno. Dopo che l'abbiamo capito siamo partiti. Adesso vi faccio vedere velocemente un tour di Greenpeace e mentre parliamo di aspetti ludici e non ludici. Greenpeace non è un... sono quattro piani di negozio e un piano di ozio. Il negozio è la negazione dell'ozio. Quindi un piano noi l'abbiamo dedicato a quello che ci manca di più a quello che di più l'uomo in questo momento ha bisogno che è il tempo. Ed io vi sto trasmettendo dall'Ozion P Club che è appunto un posto dove si ozia dove non bisogna ne fare sforzi. Bisogna lasciare la mente libera perché produca nuove idee più costruttive, più sostenibili e che possa dare modo a chi volendo può metterli in campo di usufruirne. In effetti noi, tutti i soci che vengono sull'Ozion P Club è un club. È un club destinato a duemila persone all'anno. Devono presentare domanda. Devono avere dei requisiti almeno sostenibili. E noi chiediamo a tutte le persone tutte le volte che vengono all'Ozion P Club dove trovano dei servizi gratuiti pagando una tessera ma sono alla fine gratuiti per l'anno di lasciare un commento un'idea una frase un pensiero sulla sostenibilità che viene pubblicata sul nostro sito e alla quale tutti possono fare riferimento. Quindi se uno ha un'idea sostenibile la pubblica e poi magari trova un imprenditore trova un'altra persona che insieme la realizzano. Questo è il nostro più grande il più grande sarebbe una grande soddisfazione. Allora, adesso giro la telecamera vi faccio vedere che cos'è. Allora, questo è l'Ozion P Club è praticamente il terrazzo di Green Pea e ovviamente dove vedete i tavolini perché quando si potrà si pranzerà si cenerà si faranno aperitivi feste quella che vi sto incontrando adesso è la spa guarda hai detto hai usato due parole chiave che ovviamente rispecchiano perfettamente la filosofia di Green Pea ma mi permetto di dire sono molto vicine anche al mio modo di ragionare un po' le tante cose che sto cercando di portare intanto io vi faccio vedere di portare avanti e sono queste due paroline magiche secondo me sono rispetto perché è fondamentale avere rispetto del prossimo e come dicevamo con te ovviamente del nostro pianeta e di tutto verso tutte le cose che abbia senso ovviamente fare con rispetto anche lo dicevamo in passato anche con altri personaggi rispetto anche oggi nel lavoro rispetto non solo nel lavoro verso gli altri che lavorano con noi ma proprio verso il lavoro stesso perché darebbe migliorerebbe di molto le cose oltre che vediamo in questo momento così complicato proprio rispetto verso il prossimo rispetto delle regole non perché dobbiamo rispettarle tanto per ma veramente per salvaguardare la salute degli altri oltre che la nostra e crearci delle prospettive e hai usato il termine condivisione che per me oggi è fondamentale ed è bellissimo che ci siano questi spazi che abbiano una bellissima filosofia alla base ovviamente di tutela di tutto quello che sia green ed ecosostenibile ma che siano luoghi di condivisione che poi oggi ci manca tantissimo bene giusto sono due parole che noi usiamo continuamente tutti i giorni perché la cultura secondo me è la prima cosa che va per il cambiamento senza cultura non si riesce a cambiare come vi sto facendo vedere adesso scendiamo giù così vi faccio vedere anche il building questo era l'Ozion P Club poi c'è una parte chiusa che adesso è chiusa ovviamente perché il decreto non ce la fa usare e il rispetto sono alla base di tutto questo quindi l'Ozion P Club ve l'ho fatto vedere adesso scendiamo scendiamo con te siamo partiti dall'Ozion P Club che è il vostro tetto il roof garden tutto quello che è stato costruito in Green P dallo stabile ovviamente è un manifesto di sostenibilità nel senso che è uno dei pochi edifici al mondo smontabile in tutte le parti di Green P sono fatte in ferro legno acciaio e vetro ed è tutto smontabile ed è tutto riutilizzabile quindi è tutto riciclabile i pavimenti che adesso vi faccio vedere questo è quello della scala ma è fatto nello stesso materiale del pavimento normale sono di alberi non abbattuti quindi c'è c'è stata una ricerca dal nostro da chi ha costruito il pavimento c'è stata una ricerca di trovare alberi già caduti dai letti dei fiumi dallo smaltimento delle baite di montagna e da soprattutto quello che sono le deforestazioni naturali cioè quando gli alberi cadono in maniera naturale tutto proveniente dalla Val di Susa quindi è un legno volutamente quasi chilometri zero no chilometri zero no però è della nostra regione volutamente per sprecare meno e inquinare meno nel trasporto ed è un legno irregolare abbiamo voluto lasciarlo irregolare volutamente proprio per far vedere che abbiamo trovato abbiamo usato quello che abbiamo trovato poi ovviamente è stato rifinito in maniera magistrale per poterlo utilizzare qua dentro vi faccio vedere allora qui siamo al terzo piano dedicato alla bellezza noi abbiamo chiamato questo piano della bellezza la bellezza 360 gradi vuol dire la bellezza della cultura abbiamo una libreria condivisa di 3000 volumi dedicati ai bambini e al pianeta perché secondo noi i bambini sono il futuro sul quale dobbiamo investire di più quindi tutti i libri dedicati ai bambini ovviamente dedicati alla cultura del pianeta per i bambini quindi tutti i libri che possono insegnare al verculo del pianeta della fauna della flora di tutto quello che è il nostro mondo poi abbiamo un'altra libreria condivisa sempre però dedicata di più ai libri per adulti dedicati sempre al pianeta che siano romanzi che siano libri di geografia oppure libri fotografici però dedicati al pianeta poi abbiamo l'offerta gastronomica perché giustamente non ci può essere un edificio del gruppo Farinetti che non abbia offerta gastronomica ed è Affini Centovini Affini che è il nostro bistrò fatto con Affini che è stato e per Torino un punto di riferimento della nuova vita diciamo della mixologia quindi di quello che è la nuova generazione del bar che non è più solo un bar ma è un luogo di ritrovo dove si provano esperienze nuove dove si provano cocktail nuove si sperimenta anche poi laggiù in fondo ovviamente anche quello chiuso oggi vediamo però se c'è la porta aperta è il ristorante Casa Vicina che è il ristorante stellato che c'era dentro Italy fino all'anno scorso adesso è arrivato da Green Tea vediamo se no è chiuso mi spiace succede sono chiusi un ulteriore motivo per quando si potrà venire mi spiace così venite a vederlo poi abbiamo la bellezza quindi dedicata alla cultura noi abbiamo scritto una frase molto forte all'inizio all'ingresso del piano che chi non legge è complice e chi legge è già parte della soluzione perché come dicevo la cultura è quella parte fondamentale della nostra della nostra esperienza perché senza di quella non si può sapere poi abbiamo invece la cultura del fashion quindi abbiamo tre brand Zegna Brunello Cucinelli Hermes Is adesso vi faccio vedere cosa ha costruito Zegna per noi fuori dal suo spazio vedete adesso c'è lo spazio Zegna ovviamente è chiuso oggi troverete un po' di gente che sta facendo dei lavori ma è giusto che sia così perché è giusto assolutamente in questo momento di chiusura Zegna ha ricostruito un pezzo dell'Oasi Zegna di Trivero che io ho avuto la fortuna di poter di poter visitare purtroppo una sola volta al momento ma è un posto veramente un paradiso in terra esatto loro hanno costruito hanno riprodotto qui un pezzo dell'Oasi Zegna portando anche le pietre dall'Oasi Zegna la famiglia Zegna ha voluto fortemente questo percorso per far capire quello che era quello che è l'impegno della famiglia Zegna nell'ambito della natura e quindi della sostenibilità e questo è il percorso accessibile a tutti non solo a quelli che vanno nel negozio di Zegna e questo è il picco la piccola oasi Zegna che c'è all'interno di Greenpeace con ovviamente spiegato tutto quello che è adesso vi faccio vedere tutto quello che è l'Oasi Zegna tutte le piante sono scritte che cos'è qui adesso stanno iniziando a fiorire finalmente perché tutto l'inverno sono state spoglie adesso le famose azalè della panoramica Zegna quindi c'è tutto e questo è un omaggio che Zegna ha voluto fare a Greenpeace proprio per far vedere ah non vi ho detto la piscina adesso ve la faccio vedere che avete visto prima negli ultimi 8 metri è trasparente ed è tutta completamente in vetro la vedete da qua sotto questa è la parte trasparente quindi si può nuotare tranquillamente a sbalzo a 35 metri d'altezza è una delle delle poche piscine a sbalzo fruibili dalle persone è una chicca è una cosa in più per ossiare come vi dicevo adesso purtroppo i negozi di questi tre di questi quattro marchi molto importanti per per noi sono chiusi perché perché stanno siamo chiusi e quindi loro hanno lo spazio chiuso devo solo dirvi che questi tre marchi hanno costruito tre tre store apposta per Greenpeace quindi sia Zegna che Brunello Cucinelli di Kerno che Sisa hanno costruito tre store che non esistono al mondo anche se loro hanno negozi in tutto il mondo apposta per Greenpeace perché vi faccio vedere quello di Erno alla vetrina si può vedere così ve lo faccio vedere sbirciamo sbirciamo con te dopo voglio chiederti una cosa riguardo questo Erno ha fatto tutto con il cedro sughero e legno e ha fatto uno spazio dedicato ovviamente a Erno Globe eccola qua dedicato a Greenpeace probabilmente sarà il primo se aprono dei concept dei negozi o degli stand in giro per il mondo di Erno Globe saranno così però questo è stato il primo esperimento e l'hanno voluto fare esattamente qua da Greenpeace anche loro hanno fatto il loro e poi la bellezza ovviamente si conclude con quello che è proprio la bellezza quindi noi abbiamo creato il primo laboratorio cosmetico sartoriale di cosmesi scusi il primo laboratorio sartoriale di cosmesi bellissimo questo gioco di parole spiegacelo ve lo spiego perché è molto semplice noi abbiamo voluto insieme ad Allegro Natura che è un produttore di creme di bellezza e di prodotti del beauty qua vicino a Torino creare un laboratorio dove viene misurato il pH delle persone singole e viene creata la crema il prodotto di bellezza apposta per il pH quindi non ci sono sprechi a farne di più o di meno di quello che deve essere due viene fatto apposta sul pH così non ti fa male quindi non crea allergie non crea irritazioni e aiuta a ridurre lo specchio vi le date un boccettino bellissimo di legno e di vetro quando il prodotto è finito lo riporti qua te lo ricarichiamo ti rifacciamo la cosa e tu sei a posto questo serve per evitare packaging per evitare spreco di prodotto perché poi i prodotti cosmetici vanno a male non durano in eterno ed è fatto apposta per la propria pelle poi ci sono prodotti per la casa ovviamente prodotti anche per l'uso quotidiano di entefici saponi tutti sostenibili e tutti biodegradabili quindi abbiamo fatto della bellezza decisamente decisamente sì ma senti io ti chiedo nel mentre mentre da questo punto di vista uno almeno io posso pensare un po' da sensazione così che tante aziende legate al mondo del beauty del food di altre situazioni sono da tempo no? attente al mondo della sostenibilità e quindi abbiano magari avuto anche più facilità a comprendere rispondere subito presente al vostro al vostro invito volevo la tua testimonianza in qualità tu di di responsabile della parte moda e oggi vediamo questo spazio che è meraviglioso però quando hai dovuto avete dovuto spiegarlo presentarlo con i progetti oltre che l'idea com'è stata recepita qual è stata la rapidità domanda retorica però vorrei vorrei capire con te ovviamente la rapidità e l'attenzione di questi di questi brand abbiamo parlato prima di Zegna e altri che sono ovviamente da tempo io penso penso la Zegna che conosco da più tempo e che davvero ha da sempre posto massima attenzione a questi temi legati all'ambiente anche proprio con la sua oasi Zegna che da tempo insomma esiste ed è veramente un regalo che ci viene da fatto ecco allora noi in questi dieci anni abbiamo incontrato circa tra tutti quindi non solo dell'abbigliamento ma anche dei mobili una cosa come 400 aziende certe sono state sono partite subito in quarta poi hanno frenato dopo non è stato facile dieci anni fa spiegare un progetto che non esisteva che c'erano solo delle bozze c'erano solo delle idee man mano che siamo andati avanti abbiamo sempre più affinato il progetto diciamo che le aziende non ci hanno messo molto a capirlo chi voleva veramente fare il sostenibile l'ha capito in tre minuti chi aveva dei timori ci ha messo un po' di più altri l'hanno capito e poi hanno desistito per mille motivi alla fine l'anno scorso il covid ha dato anche una bella batosta comunque con la selezione di aziende che avevamo ormai consolidato però non se la sono sentita hanno preferito ritardare il progetto e fine devo dire che raccontare il progetto con Oscar Farinetti è più facile perché Oscar è un narratore nato e Francesco uguale che è il figlio che è il nostro presidente e amministratore delegato e devo dire che con loro è più facile però andando in giro nelle aziende io ho provato con tutti tutti quelli che sentivo ovviamente vicini a un progetto sostenibile e io l'ho presentato appunto come ho detto alcuni più recettivi altri un po' meno però insomma chi ci ha creduto l'ha fatto sì decisamente abbiamo visto tra l'altro collaborazioni con nomi di assoluto riferimento non solo soprattutto sul panorama italiano brand italiani ma sul panorama internazionale quindi questo è molto importante che ci sia stato seguito e collaborazione da parte di leader indiscussi sul panorama mondiale perché ricordiamo questa è una tematica Green P nasce a Torino giustamente la vostra città da lì è anche bello a livello simbolico che sia partito che parta tutto però è un progetto non solo vostro di Green P che immagino avrete desiderio di realizzare di estendere al resto del mondo ma la tematica del rispetto dell'ambiente e del green ovviamente è una tematica che non ha non ha frontiera non ha frontiera devo dire che ovviamente all'estero è più facile noi italiani abbiamo questa grande porza verso il mondo estero che non sfruttiamo abbastanza noi siamo conosciuti appena parliamo di italiano appena parliamo di estero si aprono le porte il problema è che con l'estero è più facile e con l'Italia è più difficile siamo un paese di inventori una delle ultime cose che ho scoperto e l'ho scoperto poco fa purtroppo non lo sapevo prima che anche il marsupio è stato inventato a Torino che è invicta a il brevetto del marsupio fatto nel lontano 1920 e qualcosa e devo dire che il marsupio è uno di quegli oggetti più usati al mondo perché credo che sia come la borraccia la borraccia è un brevetto di Torino creato dall'ufficiale del regno dell'esercito Reggio Sabaudo per ovviare a quello di dover andare a cercare sempre una pozza d'acqua che non era perfettamente pulita e quindi devo dire che abbiamo scoperto tante cose in un paese che è ricco di queste cose qui certe volte ci arregniamo verso il futuro nel senso che non è stato così facile portare a casa un progetto come Green Pea nelle aziende italiane però la differenza che abbiamo fatto verso una selezione di prodotti già sostenibili è proprio quello di andare a stuzzicare aziende che non erano sostenibili che non avevano nel loro DNA la sostenibilità e portarle su una strada sostenibile quello è stato il nostro più grande successo ed è quello il cambiamento perché se io vado a prendere una cosa che è già sostenibile e non muovo tutto quello che non è sostenibile e faccio poco il cambiamento non c'è quindi noi invece siamo così quest'altro sassolino lo chiamo così messaggio che lanci è molto interessante anche perché sempre ritornando a parlare della parte moda abbigliamento adesso ve lo faccio vedere per molti per molti fino a poco tempo fa per alcuni continuano magari anche adesso sostenibile a volte fa anche rima con rottura di scatole con poco guadagno perché comunque vai a doverti impegnare in determinati passaggi lavorazioni che ovviamente tolgono marginalità perché hanno dei costi differenti oltre che ti limitano in alcuni versi nel poter realizzare determinati prodotti questo sì la cosa interessante di tutto questo è che è un mondo con la sostenibilità che non è fermo un secondo nel senso che ogni secondo c'è una cosa nuova diciamo che dove l'abbigliamento era arrivato ormai a un punto di per stupire dovevamo fare delle cose strane oppure tornare indietro a rifare le cose che le nuove generazioni non avevano visto fai gli anni 80 che per i nuovi giovani non avevano vissuto e che adesso gli stiamo riproponendo in tutte le salse invece nel campo della sostenibilità è un continuo una continua novità ogni giorno ci sono prodotti nuovi fibre nuove studi nuovi il modo di riciclare le cose che non c'è ancora che c'è poco insomma è tutto un esperimento è tutta una cosa nuova ed è tutta una cosa che si può fare diciamo che è un libro un libro bianco da scrivere noi abbiamo adesso vi faccio vedere una cosa questo per spiegare in tre secondi a che punto è la sostenibilità secondo noi noi abbiamo costruito abbiamo ideato questa parete che si chiama il filo del cambiamento ve lo faccio vedere così ecco c'è un cartello in mezzo ma dovrebbe versi lo stesso qua ci sono una cinquantina di prodotti di materie prime che noi che i nostri pattern usano in green pee che quindi sono ritracciabili vi faccio un esempio allora se io vado qui c'è scritto vedete cento per cento pura lara vergite allevata a lisso berga no sì alisso tinta in modo naturale con l'indaco scuro oppure da oscalito c'è cento per cento settanta pura lana merino strenta seta tinta naturalmente da ciclamino oppure vi faccio vedere una cosa eccolo qui questa qui è la rete da pesca questa qui è la rete di pescatori che è rete da pesca grezza ok con cui si fa l'econil che è questa cosa qua lassù eccola lì eccola lì è l'econil fatta con le reti da pesca questo qui è la lana merino zq della della nuova zelanda di rete questo è il cotone il nilo certificato gizza è uno dei più bei cotoni al mondo qui ovviamente in forma grezza e poi c'è anche i pneumatici perché con cingomma facciamo le fanno con cingomma ecco adesso è nominato un marchio lo chiamo piccolo ma non però è un progetto che poi tu particolarmente avevi selezionato e che hai portato da tanto tempo e esiste credo che dal primo anno con cui sono nati noi l'abbiamo in negozio e lui è un modo per recuperare cose che andrebbero in discarica che andrebbero a inquinare perché bisogna smaltirle per riutilizzarla con la roba lì bisogna macinarla tutta rifonderla e riutilizzarla in questo modo non si sprecano energie per rifonderla si fanno delle cinture e diventa più facile questo abbiamo fatto questa parete per far capire poi ce ne sono tanti materiali c'è la pelle c'è il cotone c'è la lana merinos c'è il pet riciclato insomma ce ne sono tante per far vedere che ormai i materiali ci sono quindi l'abbigliamento sostenibile si può fare è solo una questione di volontà non è più una questione ah ma io voglio fare quella cosa sì magari sono le cose che non so il lame piuttosto che i glitter è ancora difficile farlo sostenibile però nella maggior parte dei casi nell'ottanta per cento delle produzioni si può fare sostenibile ovviamente se tutti dovessimo usare cotone sostenibile bisogna iniziare a pensare a una produzione di cotone sostenibile diversa da quella che è industrialmente che si usa adesso quindi una coltivazione intensiva del cotone non deve essere più fatta allora questa cosa qua che dici e ci ricolleghiamo al tema della cultura quello che diciamo prima è che è molto importante questo perché poi oggi si fa presto no? le grandi catene anche del fast fashion lanciano comunicazioni che usano cotone organico piuttosto che altre situazioni quindi alt bisogna affrontare questi tipi di tematiche e capire cosa vuol dire cotone campi di cotone sostenibili l'utilizzo reale di questi materiali le tinture perché poi l'inquinamento grosso arriva dalle tinture dal sappiamo anche i denim insomma quanto quanto dispendio di acqua quindi qua abbiamo tutta la brand list sì qui c'è la brand list che è in continuo aggiornamento perché noi questi sono i brand con cui siamo partiti poi ovviamente come ti dicevo prima è un libro talmente nuovo e talmente bianco che man mano costruiamo e scriviamo cose nuove adesso stiamo preparando il negozio alla riapertura che speriamo sia non questa settimana di Pasqua quindi quella che verrà dopo dal 12 in avanti e quindi sono delle cose che sono in via di rifacimento di esposizione altre invece che sono a posto però ci sono ci sono brand come Borbonese questo che abbiamo iniziato per capirci che non era sostenibile non aveva in testa diventare sostenibile io lo conosco direttore commerciale da tanti anni e quando io l'ho detto un marchio di Torino un marchio di borse ben apprezzato soprattutto qui in Italia e nel nord Italia poi ovviamente anche all'estero però io lo conosco bene essendo di Torino nasce a Torino adesso non è più torinese ma comunque il brand nasce a Torino e gli ho detto ma perché non possiamo ma come facciamo di qui siamo seduti siamo sentiti abbiamo pensato e loro abbiamo insieme abbiamo trovato questa soluzione qua allora ovviamente la pelle è un argomento un po' particolare perché insomma ci sono mille perché sulla pelle noi usiamo solo pelle di animali usate per l'alimentazione e usano la pelle della della granda che è il primo presidio slow food quindi animali allevati non ovviamente in maniera intensiva con un ciclo di vita che è il doppio rispetto a quelli normali e abbiamo chiesto alla grande invece di dare in loro con le loro concerie hanno creato e hanno provato a fare la concia vegetale fatta bene ed è venuta fuori tutta questa linea di borse stupende di borbonese che stanno andando molto bene e sono fatte in maniera sostenibile quindi una pelle molto bella di animali trattati bene in allevamento simbiotico cioè vuol dire in allevamento completamente ciclo naturale quindi non andiamo a forzare niente né come dimensioni né come quantità né come allevamento quindi con mangimi o con otro ma mangiano tutte cose naturali non vengono attisilati vengono allattati i vitelli vengono allettati dalle proprie mamme insomma viene fatta tutto il ciclo naturale e alla fine vengono fuori delle cose bellissime dall'altra parte è iniziato a usare il petto riciclato per fare tutta la parte più sportiva meno ovviamente con il loro maculato storico classico iconico in nylon riciclato e lo scrivono noi abbiamo chiesto a tutti i brand di scrivere il perché si è sostenibile in che modo perché una delle cose che nell'abbigliamento non c'è è proprio la narrazione noi qui narriamo tantissimo scriviamo ogni mese e mezzo adesso vi faccio vedere c'è una mostra fotografica all'interno di Greenpeace c'è un po' di riflessio alla luce ma cerco di toglierlo questo mese marzo-aprile è dedicato alla terra al terreno proprio quindi facciamo vedere tutti i tipi di sfruttamento di sbagliato della terra spieghiamo cosa c'è che non va e il perché è diventato così e poi cerchiamo di dare anche delle soluzioni questo ovviamente con tutto un comitato scientifico che noi abbiamo costruito per poter portare e divulgare non solo quello che è il commerciale ma quello che è proprio la divulgazione scientifica è cercare di rendere il cliente consapevole di quello che sta facendo un marchio che tu conosci bene è Pattern con esemplare loro sono già tutti sostenibili la cosa bella di questo percorso oltre assolutamente la tematica centrale il tema del green della sostenibilità e di nuovo ancora una volta con piacere ma non è che ne avessi dubbi devo darti ragione sono contento proprio che tu lo stia spiegando in una maniera così precisa e puntuale e questo mi fa un enorme piacere serve informazione hai parlato adesso dell'importanza da parte dei brand di questa grande mancanza fino ad oggi dei brand di narrare di raccontare dare informazioni è fondamentale perché solo con la cultura solo potendo sapere le cose possiamo migliorarci tutti l'altra cosa interessante mi faci vedere Pattern quindi esemplare quante aziende anche nella moda come dicevamo hai parlato prima di Invicta addirittura c'ha i brevetti per quanto riguarda il massimo sono nate a Torino nel Piemontese se tu pensi ora uno conosce la maggior parte delle persone immagina il Piemonte per quanto riguarda distretti produttivi o altro la parte del biellese perché nell'inconscio è bielle i lancifici queste situazioni qua la patria però non ti immagini il resto del Piemonte il torinese come diciamo luoghi produttivi per quanto riguarda la moda perché uno fino a qualche anno fa diciamo riconduceva il discorso di Torino all'ingotto no? unicamente certo no no adesso il Piemonte ovviamente il distretto biellese è quello che fa da regina da re a regina perché comunque con aziende come l'Oro Piano e Zegna ma senza contando tutti gli altri contando tutti i lanifici importanti adesso mi spiace non dire tutti ma sono tutti importanti io dico i due perché li abbiamo qua da noi da Green Pea ma ci possono essere tutti gli altri lanifici che ha biella ci sono una volta biella si allevavano anche le pecore adesso non ci sono più le pecore le hanno solo più l'Oro Piana e Tintoria di Quaregna che hanno ancora un piccolo allevamento di pecore l'Oro Piana le chiama come si chiama la pecora nera perché è una pecora tinta di natura nel senso che è scura quindi il suo capo la sua lana non viene più tinta viene usata col colore che gli dà ogni anno la natura l'altra cosa importante un tema io intanto mi sto facendo vedere tutto quello che è la spiegazione di Xatus qui siamo da Xatus che è la prima volta che fa vedere e spiega tutto spiega come è fatto il filo il perché il per come quanta acqua si usa per produrlo questa parte qua scusami se mi inserisco io la reputo veramente importante perché perché io e ne ho fatto anche una chiacchiera da questo punto di vista con un altro ragazzo che tu ben conosci che è Matteo Ward che da tempo si batte con queste tematiche e poi lo incontreremo diciamo alcuni accenni anche su di lui all'interno di Green P appunto è mettere al centro questa parte qua la narrazione perché oggi è fondamentale sapere il come assolutamente il dove è importante ma oggi è soprattutto il come come e chi fa le cose e come viene che conosci Federico è un'azienda che conosco sono dei ragazzi che se la stanno cavando niente male no? eh sì adesso oggi stanno allestendo lo spazio con i nuovi capi estivi vedi c'è anche il rosa il rosa il giallo il verde quindi stiamo portando un po' di estate qua anche qua anche visto che la conosco direttamente questa situazione io sono contento anche per te è stata diciamo una piccola sfida vinta nel senso che tu con la famiglia Fassino da tempo ovviamente hai importanti rapporti non solo lavorativi ma poi sfociano in discorsi anche di amicizia di sano contro ed è bello ed è bello il fatto che la famiglia Fassino anche non avevo dubbi ti sostenesse in questo in questo progetto ma ti ascoltasse da questo punto di vista perché ne parlate da tempo no? sì no ma con tutte queste aziende c'è un rapporto diciamo io le conosco da tanti anni magari qualcuna ma poche sono quelle con cui non collaboro ho collaborato da pochi anni ma tutte le altre c'è un rapporto che va un po' più in là solo del lavoro quindi mi sono permesso certe volte di spingermi oltre spingerli dove non magari non avevano voglia di andare o non sentivano le esigenze di andare come ti dicevo una narrazione per ogni azienda noi abbiamo chiesto un disciplinare di sette punti spiegando il perché sono da Greenpeace e perché sono sostenibili quindi questo c'è però ci stai dicendo questo disciplinare sette punti che hai chiesto a tutti i brand con cui spiegare a tutti i brand sì 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 poi ci sono appunto brand l'abbiamo chiesto a tutti perché noi dobbiamo uno è l'azienda che ci deve dire perché sono sostenibili e perché sono venuti dentro Greenpeace poi dopodiché noi li mettiamo andiamo a controllare che tutti che tutti i cosi siano effettivamente effettivamente veri Giampaolo la camiceria sartoriale di Giampaolo abbiamo brand anche nuovi come Autotone è un brand che nasce a Torino costola di un brand destinato solo all'outwear e solo allo sportswear dedicato a ciclub e cicloturistiche che invece ha voluto uscire e creare un brand giovane streetwear sportivo allora adesso procediamo sempre con Roberto con questo racconto ciao Elena assolutamente parleremo anche di YSM quindi di quello che è anche il lavoro della vostra della vostra azienda eccoci qua eccoci qua scusate vi avevo perso non so cosa è successo c'è stato un attimo un attimo di calo di tent di question da quella parte là ci può stare ne ho profittato ne ho profittato stavamo parlando rispondevo anche ad Elena di YC che è parte anche loro con i loro prodotti con una linea con una linea proprio nata ad hoc quindi dedicata alla sostenibilità l'ho bypassato un po' veloce perché il suo stand è in allestimento e quindi c'era poco da vedere e vi ho però adesso torno dato che ha fatto presente è giusto eccoci qua subito puntuali la cosa la cosa carina anche da questo punto di vista parlando dello stand anche in allestimento e ora come sappiamo anche anche questo importante progetto è stato ovviamente rallentato da quella che è la situazione che è la situazione in generale purtroppo nel momento in cui ovviamente si potrà tornare è importante anche avere questo tuo diciamo questa tua testimonianza il contributo da parte delle aziende non solo in termini ovviamente di prodotto che è quello che è quello che portano avanti però è anche del personale che cura ogni singolo corner quindi so che non so se tutte ma diverse aziende hanno personale diciamo aziendale ma è molto importante perché oltre per raccontare il prodotto oggi stiamo raccontando una tematica così importante e così delicata come quella del green e della sostenibilità assolutamente alcune aziende hanno il loro personale altre le gestiamo direttamente noi dipende dal tipo di brand e dalla profondità del brand e quindi dipende da cosa ad esempio gli accessori possibili le cravate non possono essere mantenuti con un personale quindi le gestiamo noi gli accessori sono così altri brand tipo PT SACUS hanno il loro personale che gestisce lo spazio abbiamo come stavo facendo ti vedere il bambino anche due aziende Cora e Botanica Bu da 0 a 11 anni e ovviamente questo è un brand dedicato proprio ai bambini con materiali sostenibili al 100% questo ecco questo qui iniziamo a toccare proprio quello che è il vero 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 sostenibile nel senso che proprio sui bambini facciamo molta più attenzione quindi tutti i prodotti devono essere molto più certificati devono avere fair trade devono avere anti allergeni sui colori queste due aziende sono veramente brave perché producono in sostenibilità diciamo avanzata come la chiamo io perché l'attenzione verso i bambini è importante poi ci sono brand importanti come Orciani che gli abbiamo dato uno spazio dove racconta quello che il suo nuovo zaino si è in pet in eco scusa con le reti da pesca che è in pelle concia vegetale spiega tutte le particolarità del suo zaino insomma pone delle domande tipo riflettiti il pianeta nelle tue mani insomma abbiamo chiesto tutti uno sforzo ulteriore rispetto a quello che è la comunicazione normale per andare dentro Greenpeace poi abbiamo una cosa interessante che la nostra sartoria qui noi facciamo tutte le riparazioni e le personalizzazioni dei capi abbiamo tutte le macchine apposta l'abbiamo voluto fare a vista proprio per far vedere la manualità e l'esperienza di quello che è la manifattura italiana anche se dentro c'è solo poi un sarto 2 però lo facciamo vedere in diretta poi ci sono i nostri occhiali anche questi qui fatti apposta per Greenpeace in beta titanio con le lenti barberini le parti in plastica sono in amido di mais cioè in polimero di amido di mais e questo per far vedere che si può fare qualsiasi oggetto nella sostenibilità un po' di gadget e poi qui abbiamo un oggetto che si chiama futuro si chiama i good eye e l'abbiamo messo proprio vicino alla sartoria per fare noi siamo sempre pop and top siamo la parte più tecnologica adesso vi faccio vedere anche il perché e la parte più tradizionale qui è uguale abbiamo la sartoria che è la parte più tradizionale quindi a mano o con la macchina a cucire ma comunque a mano e qui invece abbiamo il primo virtualizzatore creatore di avatar al mondo e l'azienda i good eye è di Milano è italiana brevetto italiano tutto italiano entra in maniera analogica esce in maniera digitale non posso non posso non chiederti se ovviamente anche tu hai creato il tuo avatar io ce l'ho ce l'ho sul telefono non posso farvelo vedere perché sul telefono io l'avevo già creato tempo fa adesso mi spiace che siano spenti i monitor ma è una cosa molto interessante e all'inizio nel senso che questa è la prima macchina fuori dalla loro sede e abbiamo già fatto tantissimi avatar l'avatar servirà da qui a un anno si inizierà veramente a usare l'avatar ad esempio a noi serve perché con l'avatar abbiamo tutte le è un avatar fotometrico ciò vuol dire che è un avatar che rispecchi esattamente la fotografia della persona dentro ci sono 120 macchine fotografiche stavo cercando di vedere se c'è un'immagine qua nel loro Deplian forse qua c'è ok tipo questa ok quindi la fotografia sopra e diventi digitale sotto ci sono 120 macchine fotografiche che fanno una cosa come 2000 scatti una roba del genere per ricreare e rimappare in maniera precisa fotografica e reale quello che è la persona che c'è dentro con tutte le misure con tutto quello che è il caso di esserci e la cosa interessante è che puoi essere usato come avatar vero nel senso che ti muovi è un elemento virtuale che può fare tutti i tipi di movimenti loro hanno creato la prima forse l'avevi vista la prima sfilata virtuale a gennaio con gioia usando sei influencer facendo l'avatar e sei influencer usando i capi di missoni non mi ricordo più valentino forse c'erano diverse aziende italiane che hanno dato la loro digitalizzazione dei capi per farle indossare in maniera virtuale agli avatar non deve sostituire la persona ma aiuta molto nell'e-commerce faccio un esempio nel senso che l'avatar ti dà le tue misure standard quindi ti dà tutte le misure dalla caviglia il piede la dimensione delle dita qualsiasi misura c'è in più ti dà una scheda con le tue misure standard tipo maglia hai 50 pantalone 48 scarpe hai 44 camicia di collo è 42 la tua lunghezza l'altezza da spalle a vita e di tot quindi dà le misure standard in modo che se tu devi andare online o in un negozio ancora meglio fisico quando ti chiedono qual è la taglia non puoi dire ma non lo so guardi il tuo avatar e ti dice esattamente la taglia poi serve in maniera questo per la moda poi può servire per in maniera ludica per poter giocare a fifa faccio un esempio i giochi online col proprio avatar invece di crearsene uno c'è proprio la propria persona oppure serve a livello medicale serve per la mappatura dei nei faccio un esempio serve per il fitness serve per mille altre cose e questa è un'esperienza e poi ovviamente ci si può fare la statuetta la statuetta la statuetta che viene fatta con una scansione diversa da quella dell'avatar però uno si può vestire e mettere nelle posizioni che vuole e farsi fare la statuetta veramente reale cioè una roba è quasi imbarazzante ci sono anche i lacci delle scarpe quindi questo è un'idea un gadget un altro dei gadget ed è unica perché la prima fuori una prima fuori ed è l'unica al mondo che fa una roba del genere ci sono mille scanner ma questa è l'unica che lo fa ad averlo fotografico e a livello reale cioè veramente la persona adesso noi appena riapriamo sperimentiamo con alcune aziende jump power piuttosto che consegna l'utilizzo delle misure create dall'avatar per vedere di riuscire a fare un capo su misura senza dover misurare vedere quanto riusciamo a portare a casa di questa esperienza poi ovviamente abbiamo come dicevi prima Ward eccolo qua abbiamo l'angolo di Ward salutiamo Matteo che proprio con uno dei suoi motti è quello di combattere lo Stasquo uno esatto e con lui abbiamo deciso di venire fuori con un prodotto alla volta giustamente lui ci abbiamo di tutto e di più a casa non abbiamo bisogno di niente quindi non dobbiamo per forza tirar fuori un bisogno di un prodotto nuovo ogni tre mesi noi al bisogno tiriamo fuori un prodotto adesso c'è la maglietta basica poi arriveranno altre cose ma non è non c'è una scadenzialità come nella moda di stagione prima l'estate autunno e inverno no noi usiamo il bisogno sentiamo il bisogno di una cosa la produciamo anzi la produce poi abbiamo brand minori come Tysher che produce t-shirt con le lettere dell'alfabeto adesso arriverà poi anche la parte maschile con altre cose e poi abbiamo brand storici come il maglificio Poco nel brand Oscalito e Natural Oscalito per quanto riguarda l'intimo e Natural per quanto riguarda le maglie ovviamente più femminile che maschile questo è il maglificio Poco è un maglificio storico di Torino hanno messo anche una macchina che normalmente è accesa per far vedere come si fa la tubolare quindi la maglia tubolare e anche loro una forte identità nello spiegare le materie prime con cui vengono costruiti i loro capi dalla seta alla lana non solo curioso di venire lì fisicamente ma vorrei vorrei veramente poter passare del tempo lì un po' nascosto che ti diceva essere essere una zanzara magari fastidiosa e guardare e guardare perché al di là di tutta questa parte di racconti lì in quel caso lì c'è anche quella quella macchina come dicevi te per fare la lavorazione tubolare vedere davvero il consumatore che non conosce gli aspetti legati al mondo della moda quello che è cosiddetto dietro le quinte e quindi vedere l'attenzione con quella curiosità con cui uno si approccia a queste dinamiche quello che vogliamo fare noi adesso noi non possiamo farlo per via delle limitazioni del decreto del dpcm e del covid è proprio quello sistematicamente ogni settimana di portare l'azienda dentro Greenpeak quindi far vedere l'azienda a portare in weekend non so se stiamo vedendo Riash quindi far venire giù lo status quo di Riash per per far per spiegare per togliere quella distanza tra l'azienda e il consumatore finale per fargli vedere guardi è lui il proprietario di Riash è lui la persona che ha disegnato questo capo che ha pensato questa cosa quindi può farle le domande può vedere può farle intanto fare anche un track show quindi magari far vedere come invecchiano un denim piuttosto che come lo fanno come lo tagliano insomma inventarci tutto questo purtroppo non possiamo ancora farlo e appena potremo farlo sicuramente è uno dei nostri dei nostri dei nostri punti principali ed è una cosa che reputo veramente interessante che condivido appieno perché come hai detto tu adesso parlando non a caso insomma di poter far venire il titolare piuttosto che i referenti quindi il consumatore finale che riesce finalmente ad avvicinarsi all'azienda a conoscere a creare quel rapporto empatico che vada a di là del cavo perché poi ognuno ha i propri gusti o meno però è molto importante poter conoscere come dicevamo e questo discorso di narrazione di guida reale di vicinanza e di condivisione lo trovo veramente interessante esatto e qui siamo dove tutto è partito nel senso dove più di dieci anni fa grazie a Cariagi grazie a Cariagi mi ha presentato Anna Mellorella che è tintoria di Quaregna a Biella vicino a Biella e questa è stata forse la prima azienda ed per il momento è l'unica autorizzata dal gruppo Pura Lana Vergine a tingere in maniera naturale tingere in maniera naturale vuol dire usare le erbe vuol dire usare le spezie vuol dire usare le radici vuol dire usare i materiali naturali che possono essere le resine degli alberi le guerce qua c'è una selezione di tutti i materiali che usa per tingere e viene tinta in infusione quindi non è che da questo materiale viene fatto un colore e poi viene usato no no si prende la lana che può essere in filo che può essere in pezza che può essere già anche in capo e la si tinge in maniera naturale questa è l'unica vera tintura naturale dieci anni fa più di dieci anni fa mi ha aperto questo mondo e da lì ho detto beh allora se siamo così si può fare quindi è nato un po' anche tutto da questo posto noi gli abbiamo a Anna Melorella gli abbiamo regalato dato la possibilità di avere uno spazio divulgativo dove spiega a parte con un video però proprio in essere dove si possono toccare tutti questi materiali e dove sopra c'è scritto che cos'è faccio un esempio Indigo Fiera ok e nelle maglie lei scrive non scrive la ricetta totale perché è ovviamente un segreto industriale ma scrive con cosa è fatto con la materia prima con cui è fatto con cui è colorato tutto quello che vedete qui l'anamerinos ovviamente fa anche i gomitoli e devo dire che non credevo ma ho scoperto che c'è tantissima gente che lavora ancora la lana a casa è tantissima è tornata tantissima un po' complice abbiamo venduto tantissimi gomitoli dove sono diventati tutti pizzettari ma non lo so come mai però sono tornati a lavorare a maglia però è una cosa interessante poi c'è ovviamente bello che comunque anche lì scusami ma pensiamo da qui forse è nato tutto come dicevi tu di questa persona per l'editura naturale ma hai citato voglio dire Cariaggi quindi parliamo no? Sì Cariaggi dieci anni fa mi ha detto io ho un sistema parliamo delle eccellenze dal punto di vista italiane e quello che è tutto il mondo dei filati ovviamente in particolare il mondo del Kachmir loro tingono in questa maniera già per Zegna per l'Europiana per per tanti altri lanifici per facevano per Cariaggi lo fanno per altri per altri per altre filature e questa è la trasformazione ideale della sostenibilità la tintoria di Quaregna era una tintoria che nel nel primo dopoguerra nel secondo dopoguerra ha tinto tanto a livello chimico e a livello sintetico ed è la figlia e il figlio hanno capito che ci voleva un po' di cambiamento e hanno trovato il modo di riqualificare l'azienda in maniera naturale quindi il bello è anche quello cioè il cambiare il modo operante di un'azienda che ha sempre usato solo la chimica a portarlo a usare le cose naturali e poi ovviamente mostri sacri come Patagonia che hanno fatto della loro vita quello che è la sostenibilità aziende come Berwich che invece non era sostenibile è diventata lo sta diventando i nostri amici di Martina Franca con i pantaloni sia uomo che donna stanno iniziando un percorso sostenibile ovviamente anche la famiglia Ciocca con Drumor è diventata sostenibile per adesso le maglie sostenibili fino alla primavera estate del prossimo anno si troveranno solo da Green Pea no scusa fino all'autunno inverno nell'autunno inverno di quest'anno li troveremo anche negli altri negozi ma per adesso si trovano solo da Green Pea perché è perché Ciocca ha iniziato questo percorso qua quindi ha voluto ha voluto dare a Green Pea l'opportunità di essere prima degli altri North Sail il marchio internazionale loro usano il PET riciclato il nano riciclato ormai da tempo hanno campagne per la salvaguarda dei coralli delle pulizie del mare ovviamente è un brand dedicato più al mare al mare quindi bene che ha come vedevamo prima Patagonia che insomma brand per eccellenza del mondo outdoor si sia da sempre impegnato su quello che è la tutela dell'ambiente dell'ecosistema è giusto che anche North Sail con il mare North Sail lo fa e anche poi il gruppo adesso vedetelo stanno facendo il cambio di stagione proprio in questi giorni mi spiace però il gruppo WF quindi con Timberland a Papiri e Icebreaker e anche loro qua mettono solo i prodotti sostenibili dei tre brand e anche loro ovviamente danno carattere a quello che c'è in vendita la prima la classica Timberland che tutti conosciamo però in pelle riciclata perché? perché si può fare anche quello poi ci sono brand come Dedicated invece che nascono già sostenibili cioè nascono da un'esigenza brand che diventano sostenibili perché hanno capito che bisogna cambiare e brand invece che hanno capito l'esigenza che c'era quella di avere un brand sostenibile e loro sono sono uno di questi che nascono volutamente già sostenibili poi abbiamo uno dei più grandi produttori di calze che è Bonadei che con Antidodo 45 esce col prodotto sostenibile è uno di quelli che spiega anche lui tutto quindi se uno scarica QR code vede come è fatto questo tipo di materiale oppure in un'altra maniera è spiegato il filo con cui viene utilizzato ogni calza comunque è spiegata e spiega il perché è sostenibile o meno meno no nel senso che qui meno sostenibile non ci sono però più sostenibile o meno sostenibile diciamo che la sostenibilità al 100% è ancora molto lontana ma credo sia difficile da raggiungere perché bisogna trovare il giusto compromesso tra il volere e il piacere perché deve essere sempre bello essere sostenibili poi ovviamente noi diamo una piccola selezione di mix adesso anche noi stiamo rifacendo le vetrine di mix di prodotto proprio per far vedere che ci si può vestire normalmente con tutto quello che si è poi abbiamo 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 prodotti che possono ovviamente sono ancora un po' più spostati verso l'uomo ma stiamo impegnandoci ad andare verso la donna però insomma cerchiamo di far vedere un mix di 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 proposte per far sì che la gente possa capire che ci si può vestire sostenibile sia in maniera più sportiva che in maniera più elegante che in maniera più casual insomma cerchiamo di dare un po' di gusto questo è lo spazio invece di Cingomma con come dicevo prima anche lui ha caratterizzato tutte le cose con con quello che è materiale di recupero quindi poi a far vedere le sue friulane e beh infatti te lo volevo dire prima infatti io mi ricordo di Cingomma nato con con le cinture però le friulane sono proprio la scarpetta esatto oggi è diventata diciamo uno dei degli status symbol del radical chic special modo nella Milano è bene però insomma sono scarpe nate come scarpe povere quindi con la gomma riciclata delle biciclette e venivano usate inizialmente dai gondolieri esatto poi vedi Cingomma parlando di bici ha creato anche una bici che pedalando ti ricarica il cellulare per cui attacchi il tuo cellulare io ne avrei bisogno sono sempre col telefono scarico dovrei andare in giro con questo cellulino e questo affare sempre esatto e questo è lo spazio poi ovviamente siamo un'azienda sostenibile pensiamo anche al sociale con Made in Carcere Made in Carcere è un'azienda che è nata e ovviamente non profit è un'azienda di volontariato che nasce in Italia un po' in tutta Italia aiuta le donne in carcere a imparare a fare un mestiere quindi va a prendere dalle aziende di abbigliamento o comunque che girano nell'ambito del fashion gli scarti di produzione cosa avanzano in tutti i modi e li rigenera in borse braccialette borsini beauty chi più ne ha più mette a seconda di cosa gli viene in mente fa e aiuta le persone a livello sociale perché la sostenibilità è anche sociale voglio presentarti una persona il mio store manager buongiorno buongiorno è molto piacere grazie Daniele grazie dell'accoglienza almeno oggi virtuale ma speriamo presto di venirvi a trovare sta allestendo Greenpea pronti per la ripartenza e ovviamente grazie anche a lui agli altri collaboratori di Greenpea siamo riusciti a mettere insieme e a tenere a bada tutti questi brand perché bisogna tenerli a bada non è non è non è così facile Federico quindi avete fatto oggettivamente che piaccia non piaccia che uno condivida non condivida oggettivamente è qualcosa di unico il primo progetto su questo genere è mai nato le difficoltà è normale che ci siano voglio dire guidare e riuscire a confrontarsi così tante teste così tante realtà è veramente complicato ma non ho dubbi che tu ci riesca sia perché insomma hai presenza fisica non può ti temono che sei un grande dialogatore voglio dire è impossibile non aver piacere ad ascoltarti una prescindere da qualsiasi cosa bisogna tener duro con tutte queste aziende perché ovviamente bisogna sempre di un po' di un faro sono in una zona dove alla fine fanno più fatica a essere presenti nel senso che non avendolo tante aziende nel proprio DNA alla sostenibilità bisogna che qualcuno ogni tanto li guidi mi sto portando nel campo dell'arredamento perché noi abbiamo un piano il primo che è quello dedicato alla casa prima non vi ho detto che noi cerchiamo con GreenP di cambiare tre abitudini principali tre cose che noi facciamo tutti i giorni che volente o non volente facciamo che sono l'abitare quindi abitare in un luogo diciamo vuol dire energia arredamento vestirsi perché ci vestiamo tutti i giorni e muoverci se noi riusciamo poco alla volta a cambiare le abitudini di queste tre cose senza dover sconvolgere niente quindi vuol dire la prossima volta che mi devo comprare una maglietta invece di andare a comprare un fast fashion che non so dove è fatto non so da che è fatto non so se hanno sfruttato le persone non so i materiali non so niente diciamo anche questo Roberto perché ne abbiamo detto altre volte sostenibile oggi ovviamente come diciamo io intanto faccio in giro l'industria della moda e tante industrie sono ancora in alcuni casi lontani da una totale sostenibilità ma oggi sostenibile acquistare sostenibile vuol dire anche quello che dicevi te evitare di comprare nel fast fashion e comprare dei capi che siano duraturi perché ovviamente un capo con una durata un ciclo di vita più lungo è molto più sostenibile rispetto a un capo comprato nel mondo del fast fashion che addirittura oltre che è un'useggetta non sappiamo né chi l'ha fatto o possiamo purtroppo immaginarlo ai me perché se una t-shirt costa 4 euro o 3 euro e non costa 9 va da sé che non può essere sostenibile la tintura e chissà purtroppo chi ha dovuto lavorare e subire delle angherie nel realizzare questo questo vale su tutto nel mondo dell'arredamento ovviamente anche qui come nell'abbigliamento abbiamo il top e il pop nel senso che abbiamo il meglio della produzione e del design italiano Gervasoni VBF Roda Valcucine poi abbiamo Artemide Guzzini Tonon nelle sedie però abbiamo faccio un esempio che sono qua da Tonon Tonon il top delle sedie italiane di design famosissimo in tutto il mondo qui ci sono solo prodotti sostenibili quindi tutto quello che vedete è sostenibile e poi abbiamo Scab Design che è tutto quello che è sempre sedia però fatto con materiale riciclato e recuperato quindi abbiamo un'offerta sia alta che normale diciamo che stiamo cercando di portare la sostenibilità ovviamente a livello democratico un po' per tutti non è certo questo è importante un altro elemento importante che tiri fuori il fatto di poter far diventare la moda la sostenibilità è assolutamente democratica perché tanti poi pensano che questi concetti qua diventino poi troppo esosi dispendiosi dal punto di vista economico ci si avvicina poco quindi dice mi piacerebbe essere sostenibile ma non me lo posso permettere è bravo però il problema è il termine di paragoni perché ad esempio qui anche i WM che regola l'ufficio si può avere un ufficio sostenibile il problema è il termine di paragone noi abbiamo un termine di paragone sbagliato cioè il termine di paragone non è il fast fashion il termine di paragone sarebbe una produzione normale il problema che è ovvio sarà impossibile portare un'azienda a produrre un prodotto sostenibile a 4 euro a 3 euro non è possibile alla vendita soprattutto perché non è possibile è impossibile questa cosa qui e il termine di paragone è sbagliato quindi bisogna far capire che il termine è giusto adesso noi siamo ancora agli inizi dobbiamo scendere dobbiamo le aziende devono anche industrializzarsi per arrivare a risparmiare a fare un prodotto più sostenibile però e il termine di paragone è sbagliato tanti ci dicono ma siete cari se io vado da non faccio nomi ah costa molto meno ho capito però non è paragonabile non si può fare cioè se uno mi fa lo stesso paragone con lo stesso tessuto con lo stesso prodotto è un conto e lì vinciamo ma se no non è possibile ma per forza cioè perché ci sono dinamiche vendiamo anche elettrodomestici ma solo recuperati un'azienda si chiama Regeneration che ripara elettrodomestici e li rimette in commercio che trova o in discarica o che sono bollati o che sono caduti o che sono difettosi rimette a posto e li rimette in vendita pezzi unici poi abbiamo questa altra roba questa altra roba qua è bellissima anche questa è unica nel suo genere si loro hanno creato questo che rigenerasse trovi diciamo gli elettrodomestici non avevo non avevo mai ragionato rigenerano usano il termine rigenerato molto sui telefonini però per quanto riguarda gli elettrodomestici non immaginavo sulla lavatrice piuttosto che il frigorifero interessante anche questo anche perché loro sono i distributori dei pezzi di ricavi la bolla o altre cose insomma una piccola ammaccatura e poi non no no ma poi anche in discarso ti faccio l'esempio vedi qua c'è l'esempio di com'era vedi l'esempio piena di ruggine da una parte e dall'altra parte è finita praticamente loro sono sono distributori dei pezzi di ricambio dei vari elettrodomestici no e avendo già quelli in casa fanno in fretta rimettere a posto trovi dei pezzi unici e dei prezzi molto convenienti poi abbiamo Creative Cable che è di Torino è il nuovo modo di creare illuminazione all'interno della casa senza le rainure con dei colori con delle fibre divertenti vedi questi qua sono tutti fili che uno può tranquillamente usare al di fuori delle pareti quindi non più nasconderli come se facciamo una volta è bello bello anche questo è interessantissimo una soluzione carinissima non solo perché è sostenibile ma voglio dire visto che ne parliamo è anche figa possiamo usare questo termine di design è una bellissima storia e poi ha tutti i tipi di lampadina a led ovviamente e ti può creare quello che vuoi cioè si può veramente giocare a arredarsi la casa in maniera sostenibile fin quando poi arriviamo a un posto che è il nostro che si chiama Grimpy Casa abbiamo creato una linea di arredamento una linea di arredamento cucina soggiorno e camera da letto creata con materiali di rispetto col gruppo Saviola abbiamo creato l'Italia è uno dei maggiori è il maggior produttore e consumatore di legno riciclato al mondo e anche di plastica non lo sa nessuno nessuno lo dice ma noi siamo quelli che ne recuperiamo di più in tutto il mondo e con questo legno questa notizia che è molto importante non viene nessuno non lo so non la conoscevo anzi viene sempre additata l'Italia di essere molto indietro da questo punto di vista no no invece noi qui siamo molto avanti e noi con questo legno legno riciclato e recuperato facciamo queste cucine poi ci inventiamo delle cose ancora ancora migliori che sono ad esempio questo banco questo piano di questa cucina è fatto utilizzando la Lollo la Lollo serve il silicio per fare questi banchi di cucina il silicio è un materiale molto presente nella Lollo la Lollo è la fibra che protegge il riso che viene tolta quando viene ovviamente lavorato il riso ovviamente in Piemonte ne abbiamo tanto qui usiamo anche il riso acquarello per ce la dà il riso acquarello e noi recuperiamo la Lollo per fare dei piani di lavoro tra l'altro non usiamo il silicio non andiamo a scavare le montagne recuperare la sabbia e usare la sabbia ma usiamo la Lollo che normalmente viene buttata via e la usiamo per fare i piani e questo perché? perché va recuperato tutto e qui sempre con Pop and Top abbiamo cucine che partono da 3500 euro fino a 20.000 euro cucine finite adesso la faccio vedere questo invece è Stay Green il recupero del cartone molto figo molto bello veneziani sono di Venezia e loro recuperano il cartone e creano mobili ma mobili mobili nel senso questa è una poltrona fatta in cartone ma fatta bene non sono non so sembrano hanno la consistenza del mobile normale ovviamente pochissima colla pochissima forma aldeide la cucina che vi dicevo a 3500 euro è una cucina del genere quindi noi abbiamo una cucina completa di elettrodomestici alla stoviglie piano cottura forno e frigorifero a 3500 euro senza l'utilizzo di plastiche forma pochissima forma aldeide abbiamo legno recuperato e tutti i rivestimenti vedi sono in materiale neoso riciclato le scocche ai fianchi invece le ante sono in pet riciclato per circa il 70% è tutto spiegato tutto raccontato tutto 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 nel mio in particolare Whirlpool è il nostro partner tecnologico nelle cucine qua ci sono altri esempi da 6.000 7.000 euro le cucine e si possono scegliere tutti i tipi di materiali non sono non sono chiuse a due o tre colori due o tre materiali ne abbiamo di tutti i tipi e adesso vi porto la parte piano zero di Greenpeace così abbiamo chiuso il tour te lo faccio vedere da qua che cos'è questo? che cos'è questo? non lo so che cos'è? non lo so questo è il futuro arriveremo piacere piacere signor futuro questo qui è un motore idrogeno di Fiat powertrain ovviamente questo è un motore da camion da trattore che come lo vedi non ha bisogno di altre cose il motore noi siamo consapevoli apriamo il coforo vediamo il motore poi c'è il radiatore poi c'è qui no questo è tutto il motore finisce lì c'è solo poi che esce la trasmissione e questo motore idrogeno che verrà venduto verrà iniziato a essere in circolazione al prossimo anno viene venduto quest'anno nei trattori nei nelle quindi come ci stavi anticipando con questo con questo futuro quindi il motore idrogeno stiamo andando nel piano dedicato alla mobilità stiamo andando nel piano dedicato a quello che è l'energia noi siamo un mall atipico nel senso che questo è l'ingresso che vi sto facendo vedere come vedi adesso la porta è chiusa però vedi che c'è fatto in questa maniera che ha molta luce che non ha niente di commerciale volutamente noi vogliamo che la gente quando entra da noi in maniera deve impararlo non è una roba facile non è una roba immediata ma deve capire che c'è un problema adesso qui ci sono i moni utospenti mi spiace ma accenderli tutti oggi era un pasticcio e sono tutti collegati e spiegano il problema dell'inquinamento a livello della terra il gruppo l'ASI l'agenzia spaziale italiana è l'unica al mondo da avere sette satellici gestazionali che misurano la pollution del pianeta quindi il grado di inquinamento dell'area della terra dell'acqua e ci dice in che punto siamo quindi noi facciamo vedere in che punto siamo e poi spieghiamo che abbiamo pochissimo tempo per poter migliorare le condizioni del pianeta perché se no nel 2050 noi vivremo in Italia con una temperatura flat di 35 gradi che lo vogliamo o no quindi vorrà dire che a Torino a Roma e Sicilia saranno sempre tutto l'anno dai 35 ai 40 gradi quindi questo non dipende dipende dal nostro modo di agire noi spieghiamo il rapporto con l'aria con l'acqua con l'energia con i rifiuti in dei video per cercare di far capire alla gente quanto sia importante anche con semplici mosse con la raccolta differenziata con il risparmio dell'energia con qualsiasi cosa cercare di ritornare a quello che è una vita pensate che i nostri nonni io penso i miei nonni o i nonni di mio nonno ma neanche l'inizio del secolo erano già sostenibili loro non avevano niente di inquinamento noi dobbiamo ritornare con le nuove tecnologie a quel punto lì a usare una vita normale con le energie e con la tecnologia che c'è ad esempio noi usiamo tantissimo il geotermico il geotermico è un'energia che si può utilizzare in gran parte della terra e del mondo nelle città e di tutte le parti noi peschiamo raffreddiamo e riscaldiamo la nostra acqua per il riscaldamento e il raffreddamento con una falda acquifera che fortunatamente è a 35 metri quindi vicino ma ci permette di risparmiare tantissima energia lo stesso facciamo adesso ve lo faccio vedere lo sono dimenticato con i pavimenti di fianco al pavimento in legno ve lo faccio vedere dopo poi abbiamo il terra riscaldamento le dighe che abbiamo noi in Italia abbiamo tantissime dighe che non usiamo usiamo molto poco la diga è un elemento di energia veramente sostenibile perché non produce ha prodotto inquinamento quando è stata costruita purtroppo però c'è a questo punto usiamola in effetti eventualmente Greenpea avesse bisogno di energia la prende solo da due dighe dell'Iren che ci sono qua in Piemonte lo stesso è il recupero dell'acqua piovana noi recuperiamo tutta l'acqua del parcheggio di Greenpea che cade sul building la filtriamo la usiamo per bagnare le piante e per gli scarichi dei bagni quindi usiamo usiamo tutto quello che è possibile e poi spieghiamo una cosa importantissima abbiamo creato un logo che si chiama Ri e tutto quello che riguarda il riciclo e il riutilizzo noi vorremmo arrivare al punto e con alcune aziende ci riusciamo già alla fine di quest'anno se tutto va bene di avere dei centri di raccolta dei capi utilizzati in precedenza invece di buttarli perché la discarica del fashion è uno dei problemi più grandi la discarica in generale ma del fashion crea una marea di inquinamento veramente tanto e questo è un modo per far sì che il tuo capo diventi virtuoso e ritorni dove è possibile un circo di produzione dove non è possibile utilizzare un'altra maniera qua ci spieghiamo come come si risparmia sull'energia come si risparmia sull'acqua il legno come dicevo prima il gruppo Saviola che recupera la maggior parte del legno italiano questo qui è un manichino fatto con tutti i prodotti riciclati quindi vuol dire pet riciclato cotone riciclato nylon riciclato insomma è tutto fatto con riciclo questo per spiegare che si può fare si può fare tutto quello che volevo farti vedere adesso lo faccio vedere vicino a io ho detto che il pavimento di Greenpeace fa tutto in legno effettivamente è vero ma in ogni entrata ci sono queste mattonelle adesso ti faccio vedere vediamo se questa qui è attiva sì ok questa è una mattonella queste mattonelle sono sono mattonelli pizzi elettrici praticamente creano energia passandoci sopra siamo gli unici in Europa ad averle grazie a Nenel X qui ad esempio abbiamo anche ci sono dei giochi destinati ai bambini saltando una mattonella all'altra puoi giocare per far vedere che produci energia è una tecnologia che adesso ovviamente è costosa e produce poca energia è un po' come i pannelli solari di vent'anni fa all'inizio erano difficili da trovare producevano pochissima energia e vedi il pavimento pizzi elettrico è questo qua noi ce l'abbiamo in ogni ingresso quindi ce l'abbiamo qui a zero ce l'abbiamo in tutti gli ingressi fashion e da tutte le parti dove passa più gente non l'abbiamo in tutte le parti perché costa molto costa molto la manutenzione è ancora molto alta sono delicati insomma però l'abbiamo in tutti gli ingressi produce l'equivalente per un per un cellulare la ricarica di un cellulare quindi poca roba però stiamo facendo vedere che il futuro va lì fra dieci anni ci hanno detto ci saranno dei pavimenti pizzi elettrico che neanche si vedranno quindi poi abbiamo il rapporto con mi spiega che è spento oggi ma è della SMAT quindi con l'acqua e potabili la città di Torino perché c'è anche la città di Torino vediamo se qua è aperto penso di sì no perfetto è chiuso ve lo faccio vedere da qua perché il gruppo cosa abbiamo qua questa è una macchina che riconosciamo qui abbiamo il primo concessionario di auto non a motore a scoppio del gruppo prima era FCA adesso è Stellantis questo movimento questo movimento qua aspetta solo un secondo faccio aprire la porta così vi faccio vedere sì volentieri Roberto perché qui c'è sia lo Stellanti sia l'energia sia la nostra lavanderia perché se noi abbiamo sopra dei capi di rispetto che rispettano la natura è giusto lavarli anche con prodotti di rispetto perché se no alla fine usiamo sempre il petrolio etilene e non abbiamo e non abbiamo adesso vediamo se si apre sì 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 si apre poco poco ma si apre così vi faccio vedere questa qui è la 500 elettrica quindi il nuovo corso di Fiat la nuova 500 questa è quella cabrio vi faccio vedere velocemente il loro showroom unico al mondo esiste solo qua è il nuovo presidente di FCA nominato il francese non mi ricordo come si chiama e la prima cosa che ho voluto venire a vedere è questo quindi quando è venuto a Torino è venuto qua a vedere Greenpeace a vedere il concessionario del futuro qui ci sono tutte macchine che sono o elettriche o ibride o a gas a biogas quindi sono tutte macchine che inquinano il meno possibile compreso il nuovo Ducato raggiù in fondo che è quello per fare le consegne in città totalmente elettrico quindi anche i corrieri potranno che è un'altra cosa che hai fatto benissimo a sottolinearlo qui c'era la 120 il lavoro è importantissimo le città sono giustamente in base da corrieri per l'azienda per il lavoro hanno creato il Ducato quindi grosso non solo più il furgoncino che c'era già piccolino ma il Ducato elettrico per fare le consegne in città quindi ha bisogno di un'autonomia ma fino a un certo punto perché comunque non deve fare percorsi esagerati ogni giorno e quindi questo è il primo concessionario sono molto contenti di questo concessionario perché gli ha dato una visibilità non indifferente del gruppo Stellantis e Fiat e noi ecco come dicevo questo è il pavimento quello di legno che abbiamo da tutte le parti anche compreso qui nel concessionario dal concessionario e il pavimento quindi la tradizione con la super innovazione del pavimento pizze elettrico e qui c'è lo spazio di IREN che è la prima cosa che una persona può compiere quando per diventare sostenibile è quello di portare qui la propria bolletta allo stesso prezzo viene trasformata in una bolletta certificata perché viene rilasciato un certificato che uno può esporre totalmente energia sostenibile quindi rinnovabile la prima cosa più facile che uno può fare viene qua allo stesso prezzo con cui aveva l'energia non rinnovabile ce l'ha rinnovabile e certificata poi abbiamo lo spazio di Team dove ci sono i telefoni rigenerati e ovviamente tutto quello che riguarda Team Argo per quello che sono i termovari ci sta ci sta le pompe di calore le pompe di calore e climatizzatori ok esatto e invece qui è quello che dicevo prima la tintoria Iride è la tintoria della famiglia Campolo è storica tintoria di Torino cinque generazioni che fanno i lavandai la chiamiamo tintoria ma il giusto nome è lavanderia e loro lavano a silicone liquido una tecnologia americana si chiama Green Heart e usano il silicone per lavare tutto praticamente non c'è più lavaggio un'altra ci stai raccontando di un'altra realtà un'eccellenza assoluta è molto bello il fatto veramente la vostra bravura di aver creato un percorso e comunque una ricchezza in termini di contenuto nelle sue varie declinazioni del termine sostenibile come dicevi te il tema dell'energia dell'abbigliamento della cultura se no non cambi e loro appunto usando questa tecnologia si usa un metodo solo noi siamo abituati questo va lavato a secco quello va lavato ad acqua no qui si lava tutto nella stessa tecnologia con macchine diverse a seconda di cosa devi lavare perché si lavano dei tappeti alle camicette di seta quindi qualsiasi cosa con questa tecnologia americana che si chiama Green Earth usa silicone liquido il silicone è una materia inorganica quindi non viene né assimilata esiste sulla terra perché arriva dal silicio quindi dalla sabbia che è la seconda è la seconda materia è la seconda sostanza in quantità sulla terra e quindi ne abbiamo a sufficienza si usa il silicio si usa il silicone per lavare queste cose in maniera inorganica perché viene rimesso nel ciclo dell'acqua e l'acqua viene depurata esce quasi limpida non c'è più l'odore della lavanderia classica quella che fa ammalare la gente di tumore quindi chi ci lavora è tutelato chi usa chi porta i capi a lavare è tutelato a maggior ragione perché quando li mette addosso non ha il cloroetilene che gli va a contatto della della pelle e per di più riesce acqua quasi pulita quindi alla fine non abbiamo praticamente credo lo zero l'un per cento di inquinamento ma una roba che confronta una lavanderia normale è una è una molto molto interessante è un punto a favore della sostenibilità e Green P poi ovviamente è un posto quello che vi ho fatto vedere prima è il Discovery Museum dove ci sono le nostre forme di energia è un museo che abbiamo creato e stiamo ogni giorno implementando questa cosa qui per far sì che quando si potrà fare i bambini vengano qui a imparare che cos'è l'energia sostenibile e che cos'è la sostenibilità da Italy che è qua attaccato ci sono 6.000 bambini che ogni anno vengono a fare i corsi di alimentazione per imparare quello che è il futuro del loro mangiare quindi a mangiare in maniera ma anche perché vedi da questo punto di vista mi è capitato anche recentemente con un mio amico fraterno mio coetaneo quindi non giovanissimo ma neanche ovviamente possiamo dire chissà qualità adulta i disturbi alimentari sono tantissimi oggi sì 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 legati legati al modo diciamo sbagliato che abbiamo di mangiare e di utilizzare determinati prodotti quindi è importante questo tipo di cultura e noi facciamo la stessa cosa con l'energia in modo che gli stessi bambini dopo che hanno imparato come si mangia o comunque gli diamo una guida sull'educazione alimentare vengono qui e fanno un'educazione sostenibile riguardo all'energia tutto quello che si può usare per migliorare la vita su questo bellissimo pianeta che è la Terra con quello che dicevo prima la con queste con queste mostre che noi ogni mese e mezzo cambiamo questa mostra fotografica andiamo a far vedere tutto quello che è lo sfruttamento del in questo caso del suolo poi parleremo dell'acqua e parleremo di tante altre cose questo per far vedere che il nostro punto di riferimento non è solo dedicato al prodotto finito è vero siamo un mall e dobbiamo vendere e siamo un'azienda che deve fare della vendita il suo core business ma nello stesso tempo si può fare sia uno che l'altro quindi possiamo sia vendere che usare questo strumento per fare conoscenza per far sì che la gente diventi noi siamo prima di tutto un punto di divulgazione e cerchiamo di essere qui in Italia a Torino e poi vediamo se siamo così bravi da poter andare all'estero e cercare di far vedere questa anche imprenditorialità torinese e italiana nella sostenibilità ci sono ci sono nazioni tipo come se facevano un tour in ascensore così vedete ci sono nazioni bellissime la struttura è pazzesca al di là dei materiali è stata realizzata da uno studio dagli architetti specifici che puoi nominare sì certo lo studio blu di Torino sono gli architetti che hanno costruito il primo Italy e che hanno contribuito alla costruzione degli altri sono gli architetti Cristiana Cristiana Catino è l'architetti Cristiana Catino che ha costruito ha disegnato costruito no che ha disegnato e pensato questo building con queste soluzioni poi ovviamente nell'arco dei cinque anni è stata contaminata con idee con cose con tecnologia anche qui la tecnologia per la costruzione di questo building è stata tutta in divenire c'erano delle cose che non erano state quando sono state pensate per essere qua dentro non erano ancora pronte per essere fatte quindi io non vi ho fatto vedere sotto c'è un pavimento si chiama DNA urbano nel museo dove c'erano tutte le forme di energia questo DNA urbano è fatto è fatto con gli scarti di raccolta avete presente le macchine che spazzano i pavimenti delle città che puliscono i pavimenti che puliscono le strade ecco tutta quella sporcizia viene raccolta pulita e viene usata per fare quelle piastrelle quindi anche questa qua questa non la conoscevo proprio non avrei mai pensato che da questi elementi di recupero delle macchine che puliscono le strade che vediamo spesso passare si potessero diciamo andare a fare a costruire qualche elemento e recuperarli in maniera intelligente no no assolutamente noi cerchiamo di e quella tecnologia quando noi abbiamo iniziato a pensare a come costruirlo e poi alla costruzione non c'era ancora è arrivata in essere quindi sono tante tecnologie che sono arrivate dopo che sono arrivate nel mentre facevamo Green Pea quindi Green Pea parte tutto dall'idea di Oscar Farinetti Cristiana Catino l'architetto che ha che ha disegnato insieme allo studio blu il il building e che diciamo è un manifesto perché poi io non vi ho raccontato che tutto il legno non l'abbiamo visto da fuori ma tutto il legno tutto il legno che ricopre Green Pea Green Pea è foderato oltre che da vetro da legno quel legno che ho le liste adesso ve le faccio vedere eccole qua queste liste che vedete sono due delle cinque foreste armoniche che nel 2018 sono state abbattute in Val di Fiemme e un tornado impossibile da prevedere in Val di Fiemme è arrivato in due giorni ha cancellato cinque foreste armoniche le foreste armoniche sono quelle per capirci dove vengono presi anche i legni per fare gli stradi vari quindi un legno pregiatissimo che viene usato ovviamente nella costruzione di mobili e ha distrutto cinque foreste che vuol dire non fa bisogno di non so quanti anni ma tantissimi anni noi abbiamo comprato due di quelle foreste armoniche e ci abbiamo rivestito Green Pea questa camicia che gli mettiamo fuori ci protegge dal caldo d'estate e dal gelo d'inverno fa sì che il vetro che poi in intercapedine che ci protegge di più dentro Green Pea non si surriscaldi troppo non si raffreddi troppo ed è posizionato di più verso il sole quindi verso sud e verso ovest e ce n'è molte meno nella parte dietro perché servono meno quindi è stato proprio studiato nei miei particolari questo building anche tutte le forme siamo uno dei pochi ad avere la scala mobile l'accessibilità esterna ai piani questo perché ci permette di isolare molto di più il piano e così risparmiare molto di più energia e quindi tutto è stato pensato e fatto per far sì che sia sostenibile effettivamente devo dire quando ha uno scambio termico veramente eccezionale non fa mai né freddo né caldo all'interno di più usando pochissimo riscaldamento quindi vedi la parola rispetto esiste mi devo di nuovo girare la camera se riesco però esiste da tutte le parti sulle magliette prima c'era la spilla dove c'è cingomma cioè abbiamo proprio una volontà senti Roberto voglio concludere proprio con questo con questo termine con questo termine qua rispetto l'ho usato anche recentemente in altre occasioni in altre interviste dirette che ho avuto modo di fare io io personalmente ti ringrazio davvero tanto per il rispetto che hai avuto nei miei confronti prima di tutto in quelli di tutti gli amici che hanno ascoltato e riguarderanno questa diretta perché trovare una persona che ci ha fatto questo racconto questo tour con questo tipo di approccio questo entusiasmo positivo costruttivo e rispettando così tanto anche la nostra voglia sia di imparare ma soprattutto anche la nostra e mi ci metto io per primo ignoranza in determinate tematiche che dovremmo approfondire di più per me è eccezionale ed è molto molto bello molto molto bello e di grande esempio per tanti e io credo di grande orgoglio anche per tutte le persone che collaborano con te in questo progetto poter avere un testimonial un testimonial come te così così radicato in questo in questo progetto in queste idee che ripeto porti avanti con passione con entusiasmo e con interesse da tanti anni in tempi non sospetti quindi io ti faccio i miei complimenti faccio i miei complimenti grazie a voi e migliori auguri a questa speciale speciale iniziativa e davvero spero enormemente l'ho detto ad altre occasioni ma davvero siamo arrivati agli sgoccioli di quando potrò davvero farlo poter fare un enorme un grande giro un giro di tutta l'Italia prima di tutto personalmente in forma fisica magari a bordo di un'auto elettrica o ibrida e quindi portare portare in giro non solo il mio messaggio ma quello di poter e ci ricolleghiamo all'inizio di poter condividere condividere le tante bellissime iniziative che abbiamo in Italia e le forme di artigianalità di professionalità di imprenditoria di grande conoscenze di grande passione delle persone che povolano la nostra meravigliosa terra in lungo e in largo e se una di queste Roberto tu con la vostra con il vostro negozio storico in centro a Torino con Greenpee con le iniziative che state portando avanti insomma avete una strada un percorso bello davanti difficile ne abbiamo parlato non è non è stato facile mettere su questo questo progetto oggi l'impegno massimo è di raccontarlo e speriamo che possiate accogliere presto persone da ogni parte per poter conoscere e fare questo tour insieme a voi di conoscenza io ringrazio te ringrazio ovviamente tutto lo staff di Greenpee perché questa roba qui nasce con uno staff importante creato dalla famiglia Farinetti Francesco con tutto c'è un ufficio di marketing c'è un ufficio social perché ovviamente tutto questo va avanti grazie anche a tutto quello che ci c'è di lavoro dietro c'è un ufficio social che lavora giorno e notte sui contenuti come tu hai ben visto ogni giorno usciamo con storie idee diciamo che tutta la famiglia fa parte di questo sia la nostra che quello di Oscar che tutti i ragazzi che ci lavorano dentro fanno parte e amano questo tipo di lavoro e questo tipo di sogno che abbiamo nel portare il Greenpee più in là possibile in giro per il mondo e far capire quello che normalmente senza diventare matti si può fare per migliorare la nostra vita su questo bellissimo pianeta grazie della diretta grazie a te Roberto grazie a tutti scusatemi se siamo stati lunghi 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 io ti ho ascoltato con piacere e come ho visto ti hanno ascoltato con piacere tantissime persone perché sei ripeto un narratore fantastico ci hai portato a spasso in un tour che è unico e siamo dei privilegiati e l'hai fatto nel miglior modo possibile quindi grazie e un abbraccio a prestissimo Roberto grazie a te ciao arrivederci complimenti e speriamo di aprire il prima possibile fate i bravi assolutamente sì bravo tutti dobbiamo comportarci nel miglior modo possibile per fare modo di tornare davvero più rapidamente e soprattutto più forti di prima e abbiamo bisogno della coscienza e dell'impegno di tutti ciao Roberto grazie buona pasqua a tutti ciao arrivederci ciao grazie grazie a tutti